sei bellissimo prendete la chiave d'acqua attaccata pure allora prendo questa io che dire ragazzi e siccome sono tre giorni due giorni di fila che mangio tipo pasta agli olio e peperoncino e non so che altro mangiare dopo vi faccio vedere il menù rega mi dovete aiutare perché non so che mangiare calvin claim mazza che figa mazza dai video che è la sera alle 21 un po che da un po gangsta con questo e e e e e e e e Grazie a tutti.